Eccoci qua, oggi facciamo il post partita dalla macchina Appena usciti dallo stadio 1-0 per il Genoa che torna alla vittoria dopo tre partite I punti sono oro, ci servono contro una squadra che comunque Con tutto il rispetto ci è andata bene che fosse brocca Perché se fosse stata un pelino più forte Il Genoa magari non avrebbe portato i punti a casa E neanche uno Comunque, diretta rivale, è sempre meglio tenerle a bada Noi l'abbiamo fatto e questo è quello che importa Il Genoa si rivela in questa partita particolarmente sprecone Continua a perdere palle, fa fatica a controllare palla Passaggi sbagliati, soliti discorsi di un'intesa che ogni tanto viene a mancare Per il resto, per il resto non da dire, il gol di Gudmundson, un gol bellissimo Che purtroppo si mangia anche uno sul secondo tempo Tentennando troppo per tirare, cercando di andare troppo vicino alla porta Alla fine viene bloccato Il Gudmundson comunque si rivela essere un giocatore fornidabile Mi sento anche di elogiare il coraggio Giardino Che oggi ha fatto una partita con dei cambi molto coraggiosi Ha messo Strotman, che io continuavo a credere fosse infortunato A quanto pare non è vero e non era infortunato Ha messo anche con i De Winter, Canterzino L'ha messo come difensore centrale o forse no Comunque è stato molto coraggioso con i cambi Soprattutto ha saputo avere il coraggio di dire Metto Ekuban al posto di Reteghi nel secondo tempo E Ekuban che purtroppo non gira Purtroppo è un bravo giocatore, ci mette il cuore Cerca di fare quello che deve fare Ma purtroppo è la sua proprio tecnica che manca Un po' come uno Yeboah dell'anno scorso Invece riguardo all'avversario Posso solo dire che C'è andata bene La Serenità non aveva molti giocatori di movimento Che correvano, che mettevano spesso in difficoltà Il nostro centrocampo Fortunatamente la difesa era molto attenta in questo periodo In questa partita E quindi ha saputo tenere a bada I soliti, i primi statuti di A Che è stato molto pericoloso Però mi è piaciuto molto Come top mi sento di nominare Oltre al coraggio di Girardino Mi sento di nominare anche ovviamente Gudmundson Che è, mi sento di dire, che è ancora un po' sottotono Non nel senso che non riesce Lo vedo ancora che fa un po' di errori Che per il potenziale Per quello che ci si aspetta da lui Può essere un po' poco Ma la palla l'ha messa dentro Nel centrocampo continua a fare la differenza Anche se è un attaccante E quindi top per forza Un altro top che mi sento di dire Signori raga, Frendrup Frendrup è stato anche oggi Una delle sue partite In cui è stato sempre nascosto Eppure fa un lavoro della madonna Adesso capisco perché Perché è così voluto Dalle squadre dei Premier Fa un lavoro eccezionale Riesce a prendere tutte le palle Coraggioso Poi ovviamente top Vasquez Ragazzi, Vasquez Parte dalla difesa Va fino alla posizione dell'ala La mette in mezzo Raga, è formidabile Come flop mi sento solamente di dire Flop eclatante E Kuban Che come già detto Non si rivela all'altezza Della categoria Si rivela comunque Un giocatore che si sacrifica per la squadra Un giocatore che per la categoria Per quello che richiede il gioco del Genua Non va bene Per altri flop Grandi sinceramente Non me ne vengono in mente C'è stato contestato Anche in gladinata Sentivo Sabelli spesso Io sinceramente non mi sento di dire flop Lo sappiamo bene che Sabelli È un giocatore Non formidabile Ma comunque che la differenza La fa sempre Soprattutto sulla fascia Soprattutto sulla fascia bassa Del ruolo del terzino Che copre E la differenza la fa E quindi Insunto Nulla da dire L'unico problema Grande Forse gli unici due È che il Genua Perde troppe palle Purtroppo ogni tanto Sembra quasi essere incerto Su quello da farsi Su quello che deve fare Per vincere la partita E questo comporta anche A non riuscire a chiudere la partita Noi fino all'ultimo Abbiamo sofferto Come siamo abituati D'oltronde Però sarebbe bello Se un giorno Questa sofferenza Quanto sia un'abitudine Ormai Finisse E riusciamo a chiudere Le partite Un po' Ogni tanto Come facciamo in Serie B E niente Fatto post partita flash E niente Adesso la prossima È contro Cagliari Contro Cagliari Contro Cagliari Quella lì Anche un'altra partita Da vincere Come detto Nell'altro post partita Adesso sono Partite che bisogna Tutte vincerle Io mi aspetto Oltre a questa Altre due o tre vittorie Nelle prossime Cinque partite Perché affrontiamo Tutte squadre Sulla carta Su come vengono giudicate Dall'esterno Del nostro livello Quindi niente Forza Genova E testa Udine